Ciao a tutti, mi chiamo Zorzi Nicolò, sono uno studente del primo anno del corso in music composition. Prima lavoravo nella ristorazione ed ero musicista per passione, cosa che mi ha portato ad iscrivermi a questo corso e questi sono i risultati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.